Io e Gennaro abbiamo deciso di fare una chiacchierata insieme con voi e quindi affrontiamo questo argomento insieme e devo dire la verità sono molto contento di trovarmi di nuovo qua a parlare con voi come è successo qualche settimana fa nel nostro clinic internazionale sono contento che il CNA abbia spinto per rifare anche questo evento che ogni anno rifacciamo e spero solo che sia l'ultimo che facciamo su una piattaforma virtuale perché voglio tornare il prima possibile con tutti voi nel nostro habitat naturale che è il campo. Abbiamo pensato di fare insieme a Gennaro una cosa veramente reale e quindi vi racconto cosa è successo poco dopo il lockdown. Io come molti colleghi ero molto preoccupato delle conseguenze del lockdown e di tutto ciò che poteva comportare ai nostri atleti e un aspetto che mi ha subito allarmato è stato quello della forza, dell'aspetto strutturale quindi della componente strutturale, dell'architettura muscolare, qualcosa che ha già accennato in maniera egregia sebastiano prima e quindi ho alzato subito il telefono e ho chiamato una delle persone che stimolo di più dal punto di vista scientifico che è Gennaro facendogli la seguente domanda. Gennaro, cosa mi posso aspettare dal detraining, dal punto di vista dell'architettura muscolare, della muscolatura, della risposta del tendine e soprattutto quanto tempo mi servirà per tornare come prima e quali sono le strategie migliori. Quindi questa domanda che gli ho posto un po' di tempo fa, vorrei lanciargli da adesso e condividerla e lasciare che questa domanda apra la nostra chiacchierata insieme di oggi. Va bene, grazie Matteo. Innanzitutto visto che questo sarà veramente un dialogo ti chiedo di capire, volevo capire un attimo quali fossero i tempi, cioè quanto tempo abbiamo? Abbiamo un'ora, un'ora e un quarto, così almeno ci regoliamo anche nelle nostre chiacchiere. Chiediamo al padrone di casa a questo punto, a Lorenzo. Chiediamo al padrone di casa, diciamo che proviamo a stare nei tempi previsti, avendo tolto 20 minuti, così proviamo a stare nei tempi previsti, Gennaro, va bene? Ok, va bene, va bene. Proviamo a stare un'oretta magari così e vediamo se... Vediamo come procediamo. Vai tranquillo. Ok, va bene. Va bene, allora, come diceva prima Cencini, no? In letteratura, appunto, per rispondere un po' a questa tua domanda, Matteo, in letteratura ci sono una miriade di studi che parlano di disuso, solo che ovviamente, siccome non si può creare una pandemia ogni volta per studiare il disuso, il complottismo e quant'altro, allora noi in letteratura tipicamente si utilizzano dei modelli che non sono esattamente quelli che vedete nella slide, perché ovviamente anche per studiare questi... gli effetti del disuso non si inducono, no? la rottura dei pendini d'achille dei giocatori. Però si usano modelli anche abbastanza simili, no? Cioè, per esempio, si chiede agli atleti di tenere l'arto sostanzialmente sospeso, appeso con delle cinchie, come di ambulare con le stampelle per un certo periodo. Allora, ovviamente questo non è quello che è accaduto in questo periodo, però prendiamo spunto da questo tipo di studi per capire veramente l'estensione di questi effetti. Allora, qua vi riporto alcuni dati quantitativi di cosa succede quando tu fai un disuso reale completo di un altro. Allora, per esempio, sappiamo che la forza diminuisce un per cento al giorno, quindi in due settimane per il 14%. Quindi questo significa che anche se tu ti fermi proprio per due giorni completamente senza stando a letto così, già la forza ne risena. Per quanto riguarda la forza esplosiva, che qua misuriamo con rate of force development, i decrementi sono ancora maggiori, cioè circa 40%, anche se in questo studio l'hanno misurato bene, ma con qualche sottigliezza da perfezionare. Per quanto riguarda invece la dimensione muscolare, che qua ho messo come cross-sectional area, quindi sezione trasversa, si perde 0,5% al giorno. Per quanto riguarda la lunghezza dei fascicoli, come diceva anche prima Cencini, siamo sulla diminuzione 6%, dopo vediamo qual è l'effetto di questa diminuzione della lunghezza dei fascicoli. Angolo di penazione, diminuito del 3%, qua sto parlando in totale, nei 14 giorni. Diminuzione della stiffness tendinea 0,8% al giorno, quindi un totale di 10% di diminuzione di stiffness, quindi di capacità di carico da parte del tendine in due settimane. E poi anche c'è un sensibile aumento del ritardo elettromeccanico, quindi della distanza temporale che c'è tra l'attivazione neurale e poi l'effettuazione della forza. Ora, come dicevo Matteo, prima questo ovviamente non è quello che è accaduto ai tuoi atleti, quindi stai tranquillo che non è così grave la situazione. Ovviamente noi ci siamo, come diceva prima Sebastiano, siamo in una condizione di training, di completo, di sugo. Allora andiamo a vedere cosa ci dice la letteratura. Noi sappiamo che in già due settimane di detraining è possibile che abbiamo una diminuzione di forza dell'1-2%. Ovviamente non è così marcata, quindi è sensibile, però non è così marcata, perché ovviamente c'è un minimo effettivamente permangono. Tuttavia se questo detraining diminuisce di 7 settimane, un po' simile a quello che è successo magari un pochino in questo periodo di pandemia, la diminuzione è anche del 14-15%, quindi già dobbiamo iniziare a preoccuparci. Interessante notare che però una sola seduta a settimana di mantenimento è sufficiente per appunto mantenere i livelli di forza. Quindi se anche gli atleti riuscissero, fossero riusciti a fare almeno una volta a settimana un allenamento di una certa intensità, già avremmo mantenuto i livelli di forza. Dal punto di vista invece, vediamo se lo troviamo... Ok, dal punto di vista di altri fenomeni, di altre espressioni della forza, qua vediamo qualcosa. Per esempio in questo studio hanno fatto otto settimane di concurrent training, quindi hanno allenato sforze e resistenze insieme, che dopo sono stati fermi gli atleti per quattro settimane. E che cosa è successo? Che in realtà dal punto di vista della forza esplosiva misurata col CMJ e invece forza massa misurate con un RM, le quattro settimane di detraining hanno avuto, hanno avuto sortito l'effetto di un calo di forza, ma comunque è piuttosto limitato, quindi in quattro settimane comunque questi valori, insomma, si perdono, ma rimangono ancora ragionevoli. Invece per esempio la capacità di sprint, poi anche di Diomaxi, di cui hanno già parlato, invece decade molto più rapidamente. Per quanto riguarda la lunghezza dei fascicoli muscolari, come si diceva, qua vi voglio presentare questo studio, per esempio, qua avevano fatto otto settimane di allenamento eccentrico con il Nordicamistro e avevano trovato un aumento della lunghezza dei fascicoli del 24%. Dopo quattro settimane di detraining la lunghezza è diminuita del 12%, quindi sostanzialmente si è perso quasi la metà degli adattamenti positivi che c'erano stati in termini di architettura muscolare di lunghezza dei fascicoli. Quindi questo significa che, come diceva prima Sebastiano, anche la forza è una parte che ci interessa, ma anche l'architettura muscolare, vediamo dopo, anche molto interessante. Anche qui questo punto secondo me è importante da fare, perché non tutti alleniamo sempre solo gli adulti, no? E quindi per esempio, io ho letto un sacco di studi, adesso non so se c'è una meta-analisi su questo, ma in tutta la maggior parte degli articoli che ho letto, negli adolescenti e nei pre-adolescenti, quando il detraining dura 4-6 settimane, sostanzialmente non si vedono degli peggioramenti sensibili. Quindi anche questo noi dobbiamo contestualizzare, no? Sempre le cose. Non so se questo, Matteo, è una cosa che a te ti torna, il fatto che negli adolescenti non ci sia tutto questo peggioramento sta a fare un mese e un mezzo. Posso dire che non ne ho visti tanti ultimamente dopo la chiusura, però ho un case study a casa fantastico perché ho due adolescenti e quindi devo dirti che la sensazione, no? Ma a parte di scherzo anche confrontandomi con chi lavora con i giovani, sia che la spinta endogena sia molto più importante forse del detraining e quindi tenderei a essere poco preoccupato perché la natura, la genetica fa il suo corso. Sicuramente riadattarli sarà importante perché la parte specifica gli manca completamente, però da questo punto di vista sarei abbastanza sereno. Benissimo, allora vedi che concordiamo. Va bene, questo era il detraining. E poi quando ci alleniamo invece quanto ci possiamo aspettare poi realmente? Questa è una domanda insegna all'università e devo dire che ho noto una tale confusione e una tale incertezza nel capire quanto realmente ci possiamo aspettare in termini di miglioramenti di forza negli atleti o anche nelle persone normali, che a me sembra anche sensato poi dare dei numeri che sono ovviamente generali, però iniziare a dare qualche numero. Allora, quando degli atleti si allenano, è possibile che ci possiamo aspettare, diciamo come linea generale, uno 0,3, 0,4, 0,5% a seduta in termini di miglioramento di forza. Ok? Quindi se noi immaginiamo di fare un allenamento di forza due volte alla settimana e parlo di forza fatta realmente, qua sono studi fatti con i sovraccarchi, ci possiamo aspettare un 0,8, 0,9% di miglioramento a settimana. Questo quando il periodo di allenamento è, diciamo così, molto consistente, quindi non si salta l'allenamento, è un programma ben strutturato, di un volume sufficiente. Tuttavia, ovviamente poi durante l'anno, se noi diciamo proiettassimo queste percentuali, verrebbe un miglioramento del 40% in un anno dell'aumento di forza. Ovviamente non è così, a livello di effetti a lungo termine, e quindi considerando sia la stagionalità che il day training e tutto quanto, noi ci possiamo aspettare ragionevolmente un aumento di forza di un atleta del 7, 8, 10%, poi ovviamente più, più di meno, dipende da dove si parte. Tuttavia, questi sono numeri che noi troviamo in programmi di allenamento, diciamo così, standard, quando le persone si allenano, come hanno menzionato, come ha menzionato prima Sebastiano, però, e anche Caterina, c'è la memoria muscolare. Allora, parliamo un attimo, se parte va bene, di che cosa sia sta memoria muscolare, andiamo a vedere un po' da cosa nasce, no? Questa è la memoria muscolare. Allora, per memoria muscolare, appunto, intendiamo il fatto che quando un... non so se si vede il mio mouse, Matteo. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Quando una persona si allena, per esempio, in questo bello studio, bellissimo, ci sono due, ne ho citati due in letteratura, se potete andare poi a vedere, sono super interessanti. Quando una persona si allena, per esempio, per sette settimane, la sua forza migliore del 9%, dopo sette settimane di detremi, la sua forza peggiora, quando si riallena per sette settimane, il miglioramento è praticamente raddoppiato in termini di tasso. Il tasso di miglioramento raddoppia, quindi si migliora del 18%. Questo è il significato di forza, di memoria muscolare applicato alla forza e all'ipertrofia. Diciamo, penso sia interessante andare a vedere qual è il processo poi, diciamo, molecolare e poi strutturale che sta alla base di questa memoria muscolare. Praticamente che cosa succede? Quando un muscolo non è allenato, hanno un certo numero di mionuclei, quindi sapete che le fibre muscolari hanno tanti, sono tra le poche cellule del corpo umano che hanno tanti muclei. Bene, quando ci si sottopone a un programma con sovraccarichi, aumenta l'ipertrofia, quindi aumenta la dimensione del muscolo. Quando questa supera un aumento, si stima circa almeno del 10% rispetto alle condizioni iniziali, si aggiungono tutti quei mionuclei che erano quiescenti sulla superficie della cellula, vengono inglobati nelle cellule, quindi la cellula della fibra muscolare, della fibra muscolare, aumenta il numero di mionuclei, come vedete qua sopra, quindi la fibra diventa più grossa e con più nuclei. Quando ci si deallena, la fibra muscolare diventa più piccola, d'accordo? Però il numero di mionuclei rimane identico, perché non si perdono se non dopo tanti anni. E quindi che cosa succede? Che quando ci si riallena, è vero che si parte magari dalla stessa dimensione della fibra, ma si parte con un patrimonio di mionuclei molto maggiore rispetto allo stato iniziale. E quindi questi mionuclei, ovviamente che sono poi la base da cui parte poi tutta la sintesi proteica, permettono di dare una maggiore spinta appunto alla crescita muscolare. Quindi questo è un pochino come funziona. Ovviamente quello che sto dicendo è una cosa generale, sono dei numeri generali. A me interessa sempre far vedere che cosa cambia invece tra atleta e l'atleta, vedere la variabilità in termini di risposte tra gli atleti versus atleta. Allora, per far vedere questa risposta, Matteo, prendo un esercizio che so che a te non piace, però è quello più analitico che ho trovato. E quindi una leg extension, un esercizio di leg extension, 4x10, esercizio più stupido della terra, non ci va quasi controllo motorio, fatto per nove settimane, recupero due minuti, vediamo che cosa c'è, cosa succede ad un gruppo di persone in termini di miglioramento di forza. Allora queste barre che vedete sono rappresentative di quanto sono migliorati gli atleti in termini di forza. E come vedete c'è qualcuno che dopo nove settimane di allenamento così controllato è migliorato molto poco, che lo chiamiamo low responder, è qualcuno che è migliorato molto, più del 40% di miglioramento di forza. Quindi c'è un cambiamento tra chi risponde poco e chi risponde tanto all'allenamento di quasi 5 volte. Quindi capite bene che quando noi progettiamo, questo è un allenamento stupidissimo, semplicissimo, capisci che quando noi progettiamo un allenamento simile per tutti, non ci possiamo aspettare lo stesso risultato da farlo tutti. So che questo sembra banale come idea, però in realtà tante volte poi ci dimentichiamo di questa cosa. Allora, il tema qual è? Che anche dal punto di vista dell'ipertrofia ovviamente abbiamo delle risposte completamente diverse. Quindi anche dal punto di vista dell'ipertrofia c'è qualcuno che risponde molto male, o molto poco, molto male, e qualcuno che risponde molto meglio. Quindi per esempio migliora addirittura del 10-15% la dimensione muscolare. La cosa interessante però è che in questo studio per esempio nessuno di coloro i quali erano considerati low responder in termini di forza era considerato low responder anche in termini di ipertrofia e viceversa. Quindi significa che da qualche parte molto probabilmente l'atleta migliora, o migliora perché migliora un po' più di forza, o migliora un po' più di ipertrofia, ma da qualche parte migliora. E quindi, insomma, questa è una cosa che dobbiamo considerare, magari spingere di più anche dal punto di vista motivazionale su quali sono stati i suoi miglioramenti, magari più positivi. Come diceva prima Sebastiano, appunto, quello che genera questa differenza tra le persone è probabilmente molto collegato agli aspetti di meccanotrasluzione, agli aspetti genetici, agli aspetti trascrizionali. Mentre, contrariamente a quanto si pensa, Matteo, questo non c'entra niente con la tipologia di fibre. Cioè, si è sempre pensato, beh, se tu hai tante fibre di tipo 2, migliori di più la forza. Invece non è vero, ci sono tutta una serie di linee di cerca che ci fanno capire che non è così. Io non so se a te, Matteo, ti è mai capitato di vedere risultati così diversi in termini di risposta. Mi è capitato e a tutti noi è capitato e effettivamente succede, no, di darci gran pacche sulle spalle quando va bene e deprimerci quando va male. Le tue osservazioni ci riportano un po' alla realtà e quindi ci fanno stare un po' più obiettivi sapendo che, a prescindere dal metodo dell'allelamento, l'individualizzazione dell'allelamento e l'individualizzazione della risposta è la cosa alla quale dobbiamo puntare e rimanere sempre relativi anche nel giudizio dei risultati che abbiamo. Sì, sì. Bene, allora, poi chiaramente Matteo mi dice, beh, cosa mi posso aspettare adesso quando ricominciamo? Beh, la prima cosa che ti puoi aspettare Matteo sono i DOMS, questo lo sappiamo tutti. Cioè, quando ricominciamo questi atleti ci avranno i DOMS, d'accordo? Allora, dei DOMS magari non parlerò tanto perché li conosciamo tutti. Che cosa si intende, no, per DOMS e soprattutto per danno muscolare indotto da esercizio fisico che è quello che causa il DOMS. Tuttavia volevo sottolineare il fatto che, mentre sappiamo bene che quando ci sottoponiamo, no, quando gli atleti si sottopongono a un carico di allenamento a cui non erano abituati, soprattutto derivanti dalla contrazione centri, vanno incontro al danno muscolare, la cosa interessante è capire che questo, che gli indicatori di questo danno hanno delle cronicità, come possiamo dire, eterocronismi, cioè hanno dei tempi molto diversi di sviluppo. Ti faccio degli esempi, per esempio. Per esempio, dopo un esercizio, tu vai in palestra, fai un esercizio magari molto, dove ci sono molte contrazioni eccentriche, la perdita di forza maggiore ce l'hai immediatamente dopo l'esercizio. Mentre, per esempio, dal punto di vista del dolore muscolare, questo inizia un giorno dopo e al picco due o tre giorni dopo. Mentre dal punto di vista del gonfiore muscolare, questo inizia tre, quattro, cinque giorni dopo. Capito? Dal punto di vista invece dell'infiammazione, quindi per esempio della presenza di creatinchinasi nel sangue, questo inizia due giorni dopo. Quindi capisci che anche tutta questa cosa che sembra semplice, il fatto che vai in palestra e c'hai male, in realtà è molto più spacciettata di quella che può sembrare così un po' all'inizio. Ma io non volevo parlarvi di questo, io volevo parlare di un'altra cosa, e cioè il fatto che la cosa interessante che noi possiamo sfruttare in questo momento, secondo me, in questo momento di ricominciamento, è quello che noi chiamiamo repeated bout effect, cioè il fatto che noi sappiamo bene ormai che il muscolo si adatta ad un danno muscolare che era stato indotto da un esercizio in modo da essere protetto per un evento successivo, potenzialmente dannoso. Cioè che cosa significa? Se voi andate a vedere questa slide, l'idea è questa. Quando l'atleta va in sala pesi, per esempio, per la prima volta dopo tanto tempo, il giorno dopo avrà sviluppato magari danno muscolare, quindi il giorno dopo magari avrà sviluppato dolore, confiore, perdita di forza e così via. La cosa interessante è che se anche quest'atleta non si allenasse per 4-6 settimane, se lui ritornasse in palestra a fare esattamente lo stesso identico protocollo di allenamento che ha fatto la prima volta, i marker, gli indicatori di danno muscolare sarebbero notevolmente inferiore. Ok, quindi questo è un adattamento che avviene all'interno, diciamo così, delle muscoli. Siccome è molto interessante rispenderci due parole, qual'è l'idea? Il fatto è che, innanzitutto, come facciamo a vedere che è diminuito questo danno muscolare? Innanzitutto perché appunto la seconda volta che va in palestra a rifare lo stesso tipo di allenamento, lui ha una minor perdita di forza, un minore donore muscolare, un minore marker di infiammazione. Questi tre meccanismi, tuttavia, sono, diciamo così, hanno un effetto di protezione diverso tra di loro, perché dal punto di vista dell'infiammazione, la seconda volta che va in palestra ce n'è quasi, ce n'è pochissima, cioè i creatichinasi nel sangue pochissimi. I DOMS sono un po' di meno, sono un po' di meno, ma non tantissimo. La perdita di forza che cosa succede la seconda volta? Subito dopo la seduta, ok, si perde quasi la stessa forza, ma questa recupera straordinariamente più veloce, in maniera più veloce. Quindi il recupero di forza dopo è molto più rapido. E la cosa interessante, Matteo, è che appunto questa protezione dura tantissimo, molto di più di quello che ci potremmo aspettare. Quindi sono appunto fino a sei settimane, ma talvolta si sono visti alcuni effetti anche fino a due o tre mesi dopo, ok? E quindi questo è il primo aspetto. I meccanismi collegati a questo tipo di protezione sono quelli che vedete, ma vorrei parlarvi dal punto di vista pratico cosa ce ne facciamo di questa informazione. Allora, dovete capire che tipicamente questa protezione viene conferita dallo stesso tipo di esercizio, cioè se io faccio nella prima seduta di allenamento un certo tipo di esercizio, per esempio eccentrico, procuro danno muscolare e dopo sviluppo una protezione per lo stesso tipo di protocollo. Tuttavia io posso utilizzare anche nella prima sessione di allenamento degli esercizi che mi diano più o meno lo stesso grado di protezione, ma siano inizialmente meno dannosi per il muscolo e quindi così posso ricominciare ad allenarmi un po' più rapidamente. Alcuni di questi ve li ho riportati qua in figura, in slide. Quindi per esempio se io faccio un lavoro eccentrico anche ad alta intensità ma con pochissime ripetizioni, io sviluppo poco danno muscolare ma comunque ottengo protezione. Stessa cosa varie con l'eccentrico o con bassi carichi. La cosa più interessante, a mio parere invece, sono il fatto che se tu la prima seduta la fai con delle contrazioni isometriche a lunghezze muscolari lunghe, quindi con un angolo diciamo ampio o corto, col muscolo più lungo, tu hai pochissimo danno muscolare perché sappiamo che le contrazioni isometriche creano poco danno muscolare, ma hai comunque alti livelli di protezione nella seconda, in un secondo evento successivo. E quindi un po' il consiglio poteva essere questo, adesso forse è troppo tardi perché avete già ricominciato, però il consiglio poteva essere questo, cioè quando riparti da un periodo di stop, ripartire con degli elementi isometrici può essere sensato perché sono, come sappiamo, poco dannosi, ma danno un meccanismo di protezione soprattutto quando sono fatti a lunghezze muscolari più lunghe. Non so se ti torna sta cosa qua, se secondo te è fattibile partire in quel modo lì? Secondo me sì, assolutamente. Siamo tutti in cerca di situazioni, soluzioni che vadano a diminuire i DOMS. Ovviamente in una preparazione pre-campionato non possiamo pensare di toglierli del tutto, ma il vecchio mito no pain no gain non mi ha mai trovato d'accordo perché noi dobbiamo trovare delle soluzioni per far sì di adattare il primo possibile ai giocatori senza andare a fare, a rallentare o a indurre danni successivi, ma mi sembra che tu parlerebbe poco di questo. Sì, guarda, volevo dirtelo proprio, perché è proprio quello che ho detto di uno pain no gain è assolutamente sensato, perché qual è l'obiettivo? Perché dobbiamo cercare di indurre meno danni muscolari possibili? Perché in questo modello di comprensione recente, quello che vedete qua è praticamente queste campane sono l'ammontare di sintesi proteica indotta, di stimola sintesi proteica indotta da esercizio muscolare. Allora che cosa succede? Succede che se tu all'inizio, dalla prima seduta di allenamento, induci tanto danno muscolare, ok? Che è la parte gialla, tutta la sintesi proteica che tu sviluppi serve a riparare il danno, ok? Quindi qua anche si capisce anche una cosa, si è sempre detto che all'inizio delle sedute di allenamento il miglioramento non è muscolare ma è nervoso, queste cose qua. Non è che la prima seduta di allenamento fai 4 per 10, recupera 2 minuti, non è che non sviluppi sintesi proteica, la sviluppi è come? Solo che se all'inizio tipicamente non si è adatto e quindi hai tanti DOMS e quindi tutta la sintesi proteica che crei serve a riparare il danno, ok? E poi pian pianino, chiaramente con i repeated bout effetti, il danno che crei è sempre minore, quindi pian pianino la porzione di sintesi proteica orientata a sviluppare ipertruvia invece è sempre maggiore, no? Quindi questo secondo me mette un pochino insieme un po' di pezzi, almeno a me torna come cosa. Bene, ecco sfatato il mito del no pain no gain, cosa ci dici dello stretching per i DOMS? Eh, ok, per i DOMS è lo stretching. Faccio un passo quindi un pochino laterale. Sono andato a controllare questa cosa perché sapevo che me l'avessi chiesta, allora sono andato sulle, diciamo così, sulle revisioni più solide che ci sono dal punto di vista insomma in letteratura scientifica e ho trovato questo, insomma non ci sono buone notizie, mi dispiace Matteo. Allora, in letteratura e del tutto questa revisione molto grande dice questo, che se tu fai lo stretching prima dell'allenamento che potrebbe indurre i DOMS, hai una riduzione dei DOMS veramente limitata, statisticamente significativa ma clinicamente poco rilevante, meno 0,5% di DOMS. Se tu fai lo stretching dopo hai una diminuzione altrettanto statisticamente significativa ma poco rilevante dal punto di vista chimico perché di nuovo una diminuzione dell'1% non è difficile poi da sentire. Quindi diciamo che la sensazione non è molto interessante. Purtroppo c'è solo uno studio che ha fatto bene ed è molto su numeri grandi che ha fatto fare in maniera molto ecologica, insomma molto interessante, ha fatto fare stretching sia prima che dopo gli esercizi, l'esercizio fisico ad una popolazione per tanto tempo e quello che è successo è che insomma sul lungo periodo chi faceva stretching sia prima che dopo gli esercizi aveva un 4% in meno di DOMS che di nuovo è già un pochino di più però sostanzialmente quello che ti posso dire è che se tu pensi di fare stretching prima dopo l'allenamento per evitarti i DOMS non sei tanto sulla giusta strada. Lo stretching serve per tutto quello di cui ha parlato prima Sebastiano e Caterina ma sui DOMS non so se siamo sulla strada giusta. Benissimo, ti ringrazio perché ci ha aiutato a chiarire un aspetto e ciò non vuol dire che appunto lo stretching non sia importante, la mobilità non sia importante, rimane di cruciale importanza ma ha altre motivazioni. Quindi quando questi ragazzi ci dicono sono tutto indolenzito, fai un po' di stretching non è la indicazione più adatta. Eh sì. Bene, allora come diceva prima Sebastiano va bene, l'ipertrofia a noi ci interessa, l'ipertrofia muscolare in questo periodo ci interessa e noi tipicamente la misuriamo o come sappiamo con la sezione trasversa del muscolo o con la sezione trasversa fisiologica che sarebbe sostanzialmente ortogonale, la superficie ortogonale rispetto a lunghezze delle figlie muscolari. Tuttavia la dimensione del muscolo, che pure i solito i giocatori hanno sicuramente un pochino perso, non ci dice tutto del muscolo, infatti sappiamo quanto è importante l'architettura muscolare, quindi l'organizzazione tridimensionale della struttura muscolare. E in particolare noi quello che andiamo a vedere è la lunghezza dei fascicoli muscolari e il loro angolo di penazione, come diceva prima Sebastiano. Questi sono i parametri che noi identifichiamo con architettura. Andiamo a vedere come mai al di là della dimensione e l'architettura è importante. Qua sarò brevissimo, anzi corro velocemente per farvi capire da vent'anni ormai che sappiamo che la lunghezza dei fascicoli muscolari al netto della dimensione del muscolo, la lunghezza dei fascicoli è importante per tutti gli sport di sprint e di potenza. Qua vedete tutti gli sport del Stato Indacata, ce ne sono probabilmente anche di più. Qualcuno dice che la lunghezza dei fascicoli muscolari è anche utile per gli sport di endurance, ma la cosa che noi in questo momento interessa di più è la seguente, e cioè il fatto che ormai da qualche anno si sta riconoscendo sempre di più che la lunghezza dei fascicoli muscolari è collegata al rischio di infortuni. Allora in questo studio famosissimo, è stato poi replicato altre volte, che cosa vediamo? Vediamo un gruppo di giocatori a cui è stata misurata la forza in eccentrico con il nordic hamstring e la lunghezza dei fascicoli muscolari del dicipite femorale. Ecco, quello che vedete in grigio sono tutti i giocatori, in blu ci sono quelli che si sono infortunati sugli hamstring durante la stagione, ed è del tutto evidente che c'è un raggruppamento di giocatori che sono ad alto rischio di infortuni degli hamstring, coloro i quali hanno una bassa forza in eccentrico e una corta lunghezza dei fascicoli. Quindi è del tutto evidente che a noi ci interesserebbe capire, oltre a migliorare la forza che è tra i nostri interessi, anche come allungare i fascicoli muscolari, come faccio allungare. Allora, benissimo, il nostro amico collega Franchi, per esempio citiamo questo articolo che piace molto, ce lo fa vedere, che cosa hanno fatto qui? Hanno fatto una pressa in eccentrico e in concentrico, quindi hanno preso due gruppi di persone, qualcuno hanno fatto nessuno in concentrico, qualcuno solo in modalità eccentrica ad alte intensità, quindi hanno usato un'intensità che era l'80% della loro forza massima o concentrica o eccentrica e cosa è successo? Che dal punto di vista dei miglioramenti della forza misurata qui come un RM, più o meno è stato simile nelle due modalità. Dal punto di vista della dimensione muscolare pure è piuttosto simile, con pocchiolissime differenze, ma la cosa interessante è che l'allenamento svolto in modalità esclusivamente eccentrica ha aumentato la lunghezza dei fascicoli, quello svolto in modalità concentrica ha aumentato l'angolo di penazione. Quindi è del tutto evidente che se noi puntiamo ad allungare, ad aumentare la lunghezza dei fascicoli, è possibile dobbiamo puntare sull'allenamento eccentrico. Allora io qua di nuovo, qua c'è un meccanismo proposto di come mai potrebbe capitare questo, però vado velocemente perché se non abbiamo tempo e qua ti faccio vedere Matteo, un esercizio che di nuovo so che a te non piace tantissimo, ma siccome c'è un sacco di letteratura a riguardo e dove ce n'è di più, ti faccio vedere che cosa hanno trovato dal punto di vista delle meta analisi sull'allenamento eccentrico con il nordic chemistry. Vedete qua sulla parte destra della slide la metodologia, ovvero i protocolli, che cos'è che hanno ottenuto quando hanno fatto fare a degli atleti il nordic chemistry. Va bene, chiaramente un aumento della forza eccentrica, soprattutto in chi era molto debole. Hanno visto un aumento della lunghezza dei fascicoli del capolungo del bicipite, e questo è interessante Matteo, l'aumento della lunghezza dei fascicoli è avvenuto anche nelle persone a cui non è aumentata la forza, quindi al di là del miglioramento della forza si riesce comunque ad ottenere un miglioramento della lunghezza dei fascicoli. Quindi questo è visto come un meccanismo di protezione in termini di infortuni, anche al di là dell'aumento di forza, che comunque sappiamo, come ha detto benissimo prima a Sebastiano, che di per sé è un meccanismo protettivo l'aumento della forza. Diminuzione dell'angolo di penazione, dal punto di vista della dimensione muscolare neanche tanto, poco o nulla aumento. La cosa che può interessare a te è che questi miglioramenti sono stati ottenuti anche quando sono stati utilizzati i protocolli a basso volume, quindi anche solo 10-20 ripetizioni di un ogni chemistry a settimana, almeno come mantenimento, sono assolutamente utili e già sufficienti per dare degli stili. Poi sappiamo, le meta-analisi ci dicono che quando i protocolli di alleamento, che includono il non di chemistry, fa diminuire gli infortuni, probabilmente per tutte le questioni che ci siano. Non so se ti torna sta cosa qua, mi dispiace parlarti così tanto in un articolo di un esercizio che non ti piace. No, guarda, invece sostengo che mi piace il non di chemistry e ti vorrò motivare l'affermazione. Io uso una logica, una delle logiche che utilizzo per catalogare gli esercizi è quella di esercizi con focus sulla struttura ed esercizi con focus sulla funzione. O meglio, forse più sul movimento direi che è la funzione, perché dopo quella funzione ci abbiamo a mettere in strade strane con i termini, l'allenamento funzionale, perché per me l'allenamento funzionale o esercizio funzionale è tutto ciò che assolve il compito di raggiungere un obiettivo, quindi ogni esercizio anche analitico come questo può essere altamente funzionale. E quindi se cataloghiamo il non di chemistry, fa gli esercizi con focus sulla struttura, mi trovi pienamente d'accordo, perché effettivamente ha poca correlazione col movimento, è un esercizio a catena genetica aperta, di fatto nelle carla è invertita, ha tanto focus sul ginocchio più che sull'anca. Però se mi bastano così poche ripetizioni per andare a rinfluire in maniera così importante sull'architettura muscolare, sulla rughezza dei fascicoli del bicepio femorale, sull'allenamento alla resistenza alla fatica del semitendinoso, che sappiamo che è un muscolo difficile da coinvolgere, sicuramente fa parte di quegli esercizi collaterali che sono fondamentali per preservare la struttura. Poi anche dal punto di vista dell'edecuzione, se posso dire, secondo me due concetti importanti da preservare sono sicuramente eseguirlo in maniera corretta e quindi mantenere una leggera antiversione del bacino. E il mio suggerimento è mantenere anche per tutto il periodo una leggera flessione dell'anca in modo da prestirare il comparto posteriore, quindi anche sull'esecuzione di qualità ho da dire, ma per quanto mi riguarda fanno assolutamente il loro lavoro. Poi una cosa che veramente colpisce è questo studio che mi dice che con 20 ripetizioni a settimana noi stiamo cercando gli esercizi che con minima dose ci danno il massimo risultato e questo mi sembra che assolva questo compito in maniera importante. Non c'è solo il nodo di hamstring, ovviamente, ad esempio per quanto riguarda la catena posteriore degli hamstring, a me piace molto lavorare sugli stacchi a una gamba e si può empatizzare in maniera importante la loro componente eccentrica caricando anche molto, anche più di così, qui ha un peso di 24 kg, ma si può isolare la componente eccentrica chiedendo al soggetto di scendere con una gamba e poi fermarsi e risalire con due gambe. Oppure altro gruppo muscolare che mi interessa proteggere col lavoro eccentrico è tutto il gruppo degli adduttori e in questo caso con tutte le varianti eccentriche, ad esempio del Copenhagen Planck, assolva questo compito. Oppure sempre per andare a parlare di esercizi strutturali, io sono abbastanza legato allo squat in eccentrica fatto con le Spanish Band perché, scusate, perché questo esercizio mi permette, ancora una volta in maniera abbastanza analitica e selettiva, però di andare ad allungare in maniera importante il retto del femore e qui le attenzioni esecutive sono il contrario di quello che dicevamo prima per quanto riguarda il nordic astring, voglio un bacino che sia in retroversione per mantenere l'anca più aperta possibile perché sappiamo che il retto femorale, essendo più articolare, se lo prestiro in questo modo posso anche con poco carico, aumentando l'angolo al ginocchio, avere delle ossigenazioni di forza molto importanti. Quindi ancora qui siamo sulla componente strutturale dell'esercizio. Altre modalità di eccentrica le utilizzo in preparazione, in riabilitazione e quindi anche tutte quelle sollecitazioni eccentriche fatte con tecniche manuali trovano luogo nei miei protocolli, ma qui mi piacerebbe chiedere a te cosa succede quando andiamo a fare un esercizio eccentrico con la resistenza manuale. Guarda, grazie che me lo chiedi perché io su questo ci tengo moltissimo, nel senso che appunto tante volte si va poi sul lettino in condizioni particolari a fare degli esercizi, lo possono fare il fisioterapista, lo possiamo fare in alcune condizioni. Ci tengo a precisare questo. Allora, il tema è questo, che noi quando facciamo un esercizio eccentrico con resistenza manuale come quello che vedete in video, noi possiamo parlare di una reale contrazione eccentrica e possiamo ipotizzare che la contrazione eccentrica sia realmente, diciamo, anche più forte della contrazione isometrica quando questa è, diciamo così, preceduta da un precarico. Cioè, se voi guardate il video, spero che si veda il video che c'è a sinistra, vedete che in questa condizione, il terapista cosa fa? Chiede al soggetto di fare una contrazione isometrica massimale. Quando l'atleta ha raggiunto la massima forza, allora lui dopo induce l'eccentrico. In quel caso lì, noi siamo sicuri di due cose. La prima è che il gruppo muscolare lavori realmente in eccentrico e la seconda è che produca molto probabilmente più forza di quella che sarebbe in grado di produrre con una contrazione isometrica. Se invece noi andiamo a fare un eccentrico senza precarico, quindi sostanzialmente come sta facendo l'operatore, cerca di allungare il muscolo ma senza un precarico, in quel caso, soprattutto quando il range articolare, il range di escursione è piuttosto limitato, quasi non sappiamo neanche se ci sia una vera contrazione eccentrica perché magari semplicemente c'è stato un allungamento dei tessuti così non contrattili, una riorganizzazione tridimensionale per cui se poi il range è pure basso non stiamo veramente facendo una contrazione eccentrica. Quindi diciamo come linea guida ci teniamo a farvi vedere questo, che il tema è appunto questo. Se il precarico, quindi la contrazione isometrica che precede l'eccentrico è minore intorno al 30%, la forza espressa durante la contrazione eccentrica è minore addirittura di quella isometrica, quindi non stai veramente sfruttando l'eccentrico come potresti. Se tu gli fai fare un sufficiente precarico, tipo 70%, allora più o meno le forze si equivalgono, ma solo se tu fai un precarico, quindi una contrazione isometrica massimale prima di indurre l'eccentrico, solo in quel caso ti puoi realmente aspettare che la contrazione eccentrica che stai facendo è superiore in termini di forza e di effetti rispetto a una contrazione isometrica. Quindi secondo me questo tante volte non è chiaro. Non so che slide venga dopo, quindi adesso cerco... Vai pure. Ok, va bene. Qua abbiamo parlato di eccentrico. Però questo grafico a me lo dico sempre, piace tantissimo, perché qua adesso ci spostiamo un pochettino. Nel senso che si è sempre pensato che la contrazione eccentrica sia utile perché produce più forza della contrazione concentrica, per esempio. Questo è vero, però c'è qualcosa che è sempre un po' sfuggito in questo tipo di narrazione e cioè questo. In questo grafico si vede il profilo forza-velocità ad una serie di velocità. Quindi sulla parte destra vedete le contrazioni concentriche, sulla parte sinistra le contrazioni eccentriche. Quello che vedete è che questo è uno dei pochi studi che fa vedere anche che cosa succede alla forza quando tu fai una contrazione, per esempio, a 5 gradi al secondo. Quindi è una velocità di movimento estremamente lenta. 5 gradi al secondo è una contrazione lentissima. Ecco, se voi vedete, la forza espressa è ancora piuttosto bassa. Il passaggio grande in termini di forza è nel passare dal concentrico all'isometrico. Non è tanto dall'isometrico all'eccentrico. Quindi quello che noi non abbiamo, secondo me, abbiamo sempre un po' ignorato è il fatto che il grande aumento in termini di possibilità di applicare forza è nel passare dal concentrico all'isometrico, non dall'isometrico all'eccentrico. Scusate se ho ripetuto questo meccanismo, ma per me è fondamentale. Allora, vi faccio vedere questo proprio perché secondo me, e secondo anche un po' come sta andando adesso la letteratura, si sta un po' rivalutando l'importanza dell'allenamento isometrico. Non perché sia la panacea di tutto male, assolutamente no, ma proprio perché nelle contrazioni isometriche noi riusciamo a esprimere molta più forza, 20-30% di più di quello che riusciamo a fare durante le contrazioni concentriche. E allora a me piacerebbe che l'allenamento isometrico venga usato anche per questo, cioè non per delle contrazioni a bassa intensità, di lunga durata, che possono andare bene in alcuni casi, ma noi preparatori lo possiamo utilizzare per fare contrazioni veramente ad alta intensità, ok? E questi sono alcuni dei motivi per cui secondo me ha senso e può essere utile applicare l'allenamento isometrico. Innanzitutto perché lo possiamo utilizzare in angoli articolari liberi dal dolore, qua sicuramente i nostri fisioterapisti ci possono aiutare su questo. Poi dopo, perché appunto si riesce a produrre più forza rispetto alle contrazioni concentriche, ma senza i rischi di danno muscolare che invece hanno le contrazioni eccentriche. Poi dopo si può focalizzare il lavoro sugli angoli muscolari deboli, che altrimenti vengono spesse volte poi, diciamo così, non focalizzati. Sappiamo che le contrazioni eccentriche, le contrazioni scusate, isometriche, con il protocollo che state vedendo qua, hanno un temporaneo, un effetto analgesico sul tendine, quindi anche magari di noi in collaborazione con il fisioterapista riusciamo a lavorare in condizioni di qualche magari patologia, tendinia o altro. E poi come abbiamo detto prima, l'alimento isometrico è utilissimo per proteggere dai DOMS senza creare a sua volta danno muscolare. E poi dopo anche, secondo me è ultimamente interessante capire che la misurazione della forza isometrica è anche molto affidabile e ci permette anche tante volte di fare delle misurazioni che altrimenti non riusciremmo a fare. Non so se tu, questa è una cosa che ti torna, insomma. Sì, sì, assolutamente. Anche qui l'isometrico si assesta assolutamente fra gli esercizi con focus sulla struttura ancora, no? Perché ovviamente stiamo lavorando su quello. Però io lo utilizzo molto. Fra le cose che hai citato sicuramente uso tantissimo il protocollo quello di Ebony Rio, il 5x45 secondi come effetto antalgico per le tendinopatie rotule, soprattutto prima di iniziare il lavoro, mi piace molto. Sicuramente lo utilizzerò ancora di più dopo aver sentito i tuoi consigli per tutto ciò che ha a che fare con la repeated bout effect, perché sicuramente è una strategia molto molto interessante. E lo uso per la misurazione della forza in alcune situazioni. Ovviamente mi piace di più misurare la forza con test e assessment dinamici, quindi uso le pedane di forza per saltare, accelerometri e quando posso testo la forza in queste situazioni. Ma ci sono ad esempio alcuni gruppi muscolari, mi viene da pensare agli adduttori, gli abduttori per esempio, che hanno una importanza strategica nella stabilità e nell'efficienza del movimento che si fa un po' fatica a testarli con test globali. E quindi io uso dinamometri per misurare in maniera esometrica la forza degli adduttori e gli abduttori, perché mi serve appunto per vedere le asimmetrie, la razio fra adduzione e abduzione. Ci sono dei bei lavori di Thorborg che ha fatto sul calcio che ci danno delle indicazioni su quello, quindi da quel punto di vista lo uso. Un'altra cosa che ho usato in passato è lo squeeze test, quindi un test di forza isometrica in adduzione, per valutare la readiness, come assessment di readiness del giocatore. Quindi sono d'accordo assolutamente su quello che dici. Ok, qua adesso passo un pochino veloce. Volevo solo ricordare il fatto che ovviamente l'elemento isometrico dipende dall'angolo articolare a cui lo si fa. Per esempio a me piace pensare a questo tipo di esercizi per lavorare in isometrico ad angoli articolari su cui tipicamente magari anche una fase di salto, di volo ci si passa un po' su, non si riesce a esprimere veramente la massima forza ad angoli articolari magari così aperti, quindi secondo me può essere utile. Vorrei ricordare il fatto che ovviamente quando faccio isometria, se la faccio ad angoli a lunghezze muscolari più lunghe o un miglior transfer sugli altri angoli articolari o anche un miglior transfer sulle movimenti dinamici e induco leggermente più ipertrofia rispetto a fare lunghezze muscolari breve. Vado un pochino, ci passo un pochettino veloce su questo. Ripeto, l'allenamento isometrico non è indispensabile ma può essere molto utile, secondo me appunto molto adattabile. L'importante che lo usiamo per come ha senso farlo dal punto di vista dei preparatori fisici. Quindi quando vogliamo allenare la forza dobbiamo fare contrazione realmente, per esempio ad alta intensità, sopra 80% della forza massima, contrazioni muscolari brevi, recuperi muscolari, recuperi come quelli a cui siamo un pochino più abituati, è un volume totale che vedete intorno ai 30-90 secondi all'interno della seduta. Per quanto riguarda la forza di ipertrofia qua vedete altre indicazioni. E poi dopo sappiamo che dal punto di vista, come diceva anche prima Sebastiano, dal punto di vista tendino, il tendino ovviamente va caricato progressivamente ma poi va caricato e c'è tutta una letteratura su questo che ci dice che per migliorare la stiffness tendinia, la salute tendinia, noi dobbiamo fare contrazioni sicuramente molto lente e molto progressive, quindi non contrazioni esplosive, non rimbalzi, ma in una prima fase che secondo me è molto utile questa come indicazione. Fare contrazioni molto lente, ma anche isometriche, ma con carichi alti, ok? Perché il tendine per poter ottenere quel, diciamo, quello stimolo in termini di meccanotrasluzione sul collagene ha bisogno di allungarsi, di sentire quindi uno stress in allungamento sufficiente e questo ce l'abbiamo solo quando usiamo dei carichi piuttosto alti. Ci sono una serie di studi che ci dicono che almeno il 70-80% della forza massima, in maniera progressiva ovviamente nel nostro programma, ma dobbiamo puntare a quello. Se sei d'accordo vorrei fare ogni passo, scusami, ho già girato la slide. No, no, va bene, ti faccio vedere degli esempi di esercizi isometrici, magari un po' meno convenzionale del solito, qui on GSD facciamo un esercizio isometrico con un angolo e poi con un angolo più chiuso per andare a lavorare appunto, come dici tu, su diverse lunghezze muscolari e questo ad esempio è un esercizio che lavora sulla componente di estensione dell'anca e soprattutto di antiflessione dell'anca, no? Così come ci sono tanti altri tipi di esercizi, questo che vedete qua è proprio il protocollo di 45 secondi antalgico e poi altri mili esercizi tra i più comuni con i vari pattern. Non ho foto o video di esercizi semimassimali, adesso massimali contro resistenza fissa, ma anche quelli sono esercizi che secondo me vanno considerati per tutto il discorso che hai appena fatto tu. Salto qualcosina Matteo perché se no non arriviamo alla fine. Volevo solo però puntare l'attenzione su questo e cioè il fatto che noi quando parliamo di contrazione isometrica pensiamo che ci sia una contrazione isometrica. Ecco ci sono delle evidenze che ci dicono che non è così. Esistono principalmente due tipi di tipologie diverse di contrazione isometrica. Quella che chiamiamo, diciamo, force task e quella che chiamiamo position task. Allora come si fa a studiare questo tipo di contrazioni? Per esempio nel position task, quindi mantenere la posizione, si chiede ai soggetti, come in questo caso, di per esempio sostenere un peso di due chili e mantenere quindi la posizione con un peso di due chili per esempio in sospensione sulla cabiglia. Nell'altra condizione invece si chiede di esprimere una forza di due chili. Quindi dal punto di vista del carico è identico, sempre due chili, solo che una volta resisti alla tenuta, alla spinta, l'altra volta invece sei tu che devi spingere. Dal punto di vista neurale e della fatica indotta, questi due task sono completamente diversi. Per esempio è del tutto evidente che il position task, quindi quando tu devi tenere una posizione con una forza dall'esterno che cerca invece di farti cambiare la posizione dell'arto, è un task molto più affaticante. Come vedete per esempio l'attivazione neurale aumenta molto più rapidamente e ci si affatica molto prima. Sembra che questo particolare comportamento sia dovuto al fatto che siccome tu devi mantenere una posizione attivi molto di più i fusi neuromuscolari, ok? Perché sono quelli i deputati a sentire, a percepire la lunghezza del muscolo e questo quindi ti fa aumentare un pochettino anche la fatica anche indotta, diciamo. Quindi due comportamenti completamente diversi. Io mi sono sempre quindi chiesto quando, come citava prima anche Cinchini, quando facciamo i test muscolari anche analitici? Io non ho mai capito se bisogna chiedere al soggetto di spingere contro il dinamometro oppure di resistere alla spinta del terapista. Sono due parti completamente diverse. Questa va chiarita, non si può fare tutto un pochino a caso. E poi anche dal punto di vista dell'esercizio fisico va notata questa cosa, perché un conto è, per esempio, quando ti alleni col preparatore, quando l'atleta si alleni col preparatore, il preparatore offre una resistenza. L'altro conto è quando il preparatore invece cerca di spostare l'atleta. Quindi secondo me questa cosa, Matteo, va un pochino va analizzata, non si può considerare uguale. Assolutamente, assolutamente. È molto interessante l'approfondimento che stai facendo, perché ci porta dentro a scegliere gli esercizi in base alla motivazione, no? E quindi se andiamo a analizzare un po' il nostro gioco nel nostro gioco vogliamo spingere o vogliamo resistere? Ecco, può essere che vogliamo farti tutte e due le cose, ma nella maggior parte dei casi vogliamo resistere. Al di là del fatto che spingere la maggior parte delle volte non è consentito dal regolamento. E poi io voglio, se spingo vado fuori controllo, io voglio essere in grado di assorbire i contatti, di neutralizzare le interferenze esterne per far sì che il mio movimento sia il più efficace possibile. E in campo ci arrivano spinte sul piano frontale, spinte che ci mandano in rotazione sul piano trasverso. Un'altra cosa della quale vogliamo parlare è dobbiamo estendere oppure saper controllare l'estensione, non solo in questi movimenti, ma in tutte le componenti di accelerazione e deciderazione quando dobbiamo controllare l'inclinazione del nostro busto, ad esempio. E allora se vogliamo trasformarlo in esercizi, a me piace ad esempio tutta la serie dei pallo off press vanno incontro a quello che chiamavi position task, perché la resistenza mi tira, io voglio resistere antirotazionalmente a quella resistenza, voglio allenare il mio controllo, la mia pattern motore in quel senso. Così come facendolo con esercizi con pattern assistito, quindi voglio resistere alla rotazione, voglio resistere alla estensione, quindi tutto ciò che è antiestensione come dicevamo prima, oppure voglio resistere alla flessione laterale, perché come abbiamo visto i contatti spesso vengono su un fianco. E per quanto riguarda gli esercizi più dinamici, ad esempio mi piace allenare la rotazione, ma mi piace ancora di più chiedere un brusco stop alla fine del movimento per insegnare proprio a assorbire quel carico in maniera efficiente, efficace e ancora una volta resistere. Così come sull'altro piano ho lo stesso tipo di approccio per insegnare al soggetto appunto a frenare una componente di forza che lo vuole mandare in apertura. Ok, queste applicazioni mi piacciono molto. Io ti chiederei, visto che ci stiamo avviando insomma verso la fine, che ne dici se introduci un pochino la questione della funzione? Perché adesso abbiamo parlato molto di struttura, adesso qua siamo entrati un pochino di più nel controllo motorio. Se hai voglia di andare un pochino alla... Ok, andiamo a ragionare sul movimento vero e quindi su quello che succede in campo. Quindi noi vogliamo giocatori appunto che siano forti, abbiamo parlato della componente strutturale, abbiamo parlato di tutti i tipi di forza, ma alla fine in campo vogliamo che questa forza ci permetta di far questo nella maniera più rapida possibile. Quindi non ci serve una forza fino a se stessa, la forza per proteggere la struttura sicuramente, ma io voglio, questo è solo un esempio dei mille movimenti che si possono fare in campo, ma voglio sapere utilizzare quella forza per raggiungere la mia posizione nel più breve tempo possibile. Quindi il tempo di applicazione è la velocità con cui applico forza. Di questo cosa mi puoi dire tu dal tuo punto di vista? Ma guarda, noi purtroppo quando facciamo ricerca non facciamo, almeno io, non analizzo gesti così specifici, no? Però quando devo analizzare la capacità di esprimere forza in brevi tempi, insomma, è comunque molto interessante anche dal punto di vista della ricerca. Di solito chiedo, per esempio nel caso che vedete qua nel video, per esempio chiedo ai soggetti di raggiungere una certa forza, per esempio il 70, 80, 90% della loro forza nel minor tempo possibile, come vedete qua. Perché mi interessa questo? Perché ovviamente noi sappiamo che il tempo necessario a produrre la massima forza di un muscolo è di circa 3, 4, 500 millisecondi. Tuttavia sul campo noi sappiamo che il tempo di applicazione della forza è molto minore, no? 100, 150, 200 millisecondi. Quindi non è tanto importante quanta forza massima ho, ma quanta forza riesco a esprimere nei primi 100, 150 millisecondi. Un po' anche meno. E per quantificare questo ovviamente utilizzo quello che viene chiamato rate of force in elo, il tasso di sviluppo della forza. La cosa appunto importante da capire è questa, che se io cerco di confrontare due atleti, per esempio, nella loro espressione di forza, per esempio un atleta blu, un atleta giallo, mentre l'atleta giallo sicuramente è quello che ha più forza massima, l'atleta blu è quello che riesce a raggiungere una certa forza nel minor tempo possibile. Quindi da un certo punto di vista, in alcune situazioni di gioco può essermi più utile l'atleta giallo, ma in molte altre situazioni di gioco mi è molto più utile l'atleta blu, quello che riesce a esprimere tanta forza in breve tempo, capisci? Il tema è questo, il tema è che la forza espressa nei primi 50, 100, 150 millisecondi dipende tantissimo dall'attivazione neurale, ok? Ti faccio, quantitativamente ti dico questo, che le persone in media nei primi 50 millisecondi di espressione della forza attivano i loro muscoli circa al 40%, con un grandissimo range, un grandissimo divario tra le persone, nel senso che c'è qualcuno che attiva solo il 10%, qualcuno che riesce attivare fino all'80% nei primi 50 millisecondi. Quindi capisci che dal punto di vista neurale, dell'attivazione neurale, questo è centrale. Allora uno mi potrebbe dire, sì, vabbè, ma che mi interessa dei primi 50 millisecondi? Sembra una quantità così effimera che non la capisco, no? E invece noi sappiamo bene da questo tipo di studi basati su videoanalisi che per esempio le lesioni di legamento crociato, qua l'hanno fatto sul calcio, ma sulla palacanestro è identico, avvengono nei primi 50 millisecondi dall'appoggio a terra, sia quando fanno dei cambi di lezione che in termini di ristabilizzazione posturale. Quindi è sensato questa cosa, ha un senso. E la cosa che ha ancora senso di parlare in questo momento è la seguente, per esempio, so che non è un confinamento da Covid, ma per esempio sappiamo bene che quando, per esempio questo studio fa vedere che dopo ricostruzione di legamento crociato, a sei mesi da ricostruzione di legamento, le persone facilmente ottengono, ritorno a dei valori di forza che sono praticamente pari a quelle dell'arto sano, ma dal punto di vista del tasso di sviluppo della forza hanno ancora dei deficit molto alti, capito? Quindi di nuovo la forza di per sé va bene, ma a noi interessa quanta forza si riesce a esprimere in poco tempo. Allora io dal punto di vista pratico ci terrei proprio a fare questo, a dare questo suggerimento, perché per quanto riguarda il tasso di sviluppo della forza, la forza esplosiva, la chiave, vedrai, non è tanto, cioè può essere anche il carico, ma la chiave è l'intenzione proprio mentale, cioè è le istruzioni che diamo agli atleti, ovvero quando io voglio allenare un atleta per il tasso di sviluppo della forza, l'importante è che io dica, pronunci praticamente queste parole, poi ci si accorta, ma più o meno è questo. Devi spingere più veloce e più forte che puoi, focalizzandoti sull'istante in cui inizi la contrazione. Questo è il messaggio, l'istruzione verbale da dare. Non va bene, anche se sembra simile, ma non è adeguato dire spingi più forte e veloce che puoi, perché se dici spingi più forte e veloce che puoi, la prima cosa che sentono è la forza e quindi pensano alla forza massima, inconsciamente, insomma, non così tanto, ma sostanzialmente ci fa deviare. Invece noi dobbiamo dire spingi più veloce e più forte che puoi, concentrati sull'inizio, sull'istante iniziale della contrazione. Qualsiasi gesto poi utilizziamo può andare bene, se specifico, generale, va bene, ma questa è l'indicazione. Se per te va bene, Matteo, non so, guidami un pochettino tu, facciamo vedere magari questi ultimi due concetti qua. Sì, sì, sono importanti, facciamoli vedere. Ok, perfetto. Allora, un'altra cosa che è importante, la seconda cosa importante quando voglio lavorare sulla forza esplosiva, che abbiamo detto calare molto dopo un periodo di detraining, molto più della forza massima, è la seguente, che la forza esplosiva non dipende solo appunto dall'intenzione, ma dipende dallo stato di preattivazione da cui parte l'atleta. Ok? Quindi che cosa significa? Significa che a seconda di cosa succede prima della contrazione esplosiva, io ottengo esplosività diverse. Allora, il modo per ottenere la minore esplosività in termini di contrazione perché si ottiene la minor attivazione neurale è quello di partire da uno stato di preattivazione, scusate. Quindi come per esempio quando faccio uno squat jump senza contromovimento, quindi il muscolo e il contratto isometricamente poi esplodo, è un esercizio che può andare bene, ma devo sapere che dal punto di vista dell'esplosività non è alta, proprio dal punto di vista neurale. E invece ottengo un'esplosività maggiore se parto anche dallo stesso angolo, ma da una condizione di riposo, quindi come per esempio seduto su una panca. In quel caso riesco ad attivare le unità motori con maggiore frequenza e quindi ottengo un'esplosività maggiore. Ancora meglio se faccio quello che viene considerato da molti uno squat jump sbagliato, cioè quando noi chiediamo di fare uno squat jump, molti atleti cosa fanno? Fanno un piccolo contromovimento, fanno un piccolo silent periodo, lo chiamiamo, un piccolo momento di silenzio e poi dopo saltano. Noi diciamo che stanno sbagliando, in realtà stanno semplicemente attuando una strategia per riuscire ad attivare quelle unità motoriche che altrimenti non riuscirebbero ad attivare se fossero realmente in uno stato di attivazione. Quindi quel piccolo contromovimento in realtà è totalmente funzionale. Ma se vogliamo massimizzare ancora di più l'esplosività dobbiamo fare proprio un, addirittura contrarre brevemente e rapidamente gli antagonisti, come in questo video qua. Per esempio sono contratto, poi dopo faccio tripla flessione, quindi richiamo i piedi a terra e poi li sbatto a terra forte. Quella è la condizione in cui ottengo maggiore esplosività. Quindi contraggio l'antagonista per poi riattivare rapidamente l'agonista subito dopo. Questo è un po' un continuum di modalità di fare contazioni esplosive. Spero che ti possano. Queste sono osservazioni di grandissima qualità e penso molto molto importante per tutti noi perché noi da preparatori siamo sempre concentrati su questi aspetti e queste modalità e cercato il modo di essere più vicini a tempi di applicazione della forza che richiedesse il campo tramite esercizi speciali, specifici, adattati. Però ci siamo concentrati forse solo sull'aspetto di ciclo allungamento e accorsamento e uso elastico. Questo focus che fai sulla preattivazione e sull'attività precedente secondo me ci può aprire scenari anche dell'allenamento molto molto interessanti. Quindi questo è un insight di grandissima qualità. Mi dico anche che oltre però a questo si può andare ad influire sul rate of force development e quindi sul tasso col quale esprimo forza anche con il carico. Qui ho fatto un esperimento veramente da campo, da palestra, quindi ti prego di dirmi se vado molto lontano da quello che dice la letteratura. Però a questo soggetto ho fatto fare cinque movimenti uguali con carico diverso. Quindi ho fatto di fatto uno stacco con la trap bar. La premessa sulla quale torno dopo è che a tutti quanti gli esercizi era stato richiesto di andare più veloce e forte che puoi. Quindi l'indicazione era stata quella che dicevi tu prima. E vediamo in questo caso con il carico di 140 kg. Il soggetto lo sposta ovviamente in un tempo abbastanza ampio perché il tempo medio, ci avevo messo anche un accelerometro, è 0,29 metri al secondo e qui abbiamo il picco di forza e il rate of force development è come dici tu prima nei primi 50 millisecondi e nei primi 100 millisecondi. Senza stare a soffermarci troppo vediamo cosa succede negli altri. Secondo movimento con 100 kg, ovviamente l'esecuzione è più veloce, il tempo lo vedete lassù, sono 0,75 metri al secondo e qui addirittura il rate of force development è più alto, picco di forza rimane uguale. Adesso non entro nel dettaglio del picco di forza perché è un aspetto importante ma non esclusivo. Dovremmo andare a vedere anche l'impulso di forza, quindi tutta l'area che sottende la curva perché forza nel tempo ci dà l'impulso. Quindi concentramoci soprattutto su cosa succede alla velocità con la quale si esprime forza. Con 60 kg, vedete in mezzo, ovviamente l'esercizio è molto più veloce, 1,14 metri al secondo e ancora un buon rate of force development anche se inizia deve essere un po' inferiore. Andando avanti con 35 kg il soggetto è ovviamente ancora più veloce, ma qui vediamo un decadimento del rate of force development che decade ancora di più nella componente proprio senza carico, qui non avevo l'accelerometro perché la barra l'avevo tolta e quindi si vede una tendenza di minor rate of force development con meno carico anche leggermente minor forza, ovviamente va da sé che la velocità è molto aumentata. Ma la mia osservazione che può essere speculativa e quindi dopo passo la parola a Gennaro per discutere di questo è io voglio questo perché voglio andare in campo e voglio allenare il mio soggetto a tempi di applicazioni specifiche della palacanestro, quindi questa parte qua è veramente cruciale e fondamentale. Ma se carichi più alti mi danno rate of force development più alto oltre a tempo sotto tensione più alto, ma non voglio parlare di quello, allora penso che per arrivare a fare efficacemente questo passare attraverso carichi più alti sia molto importante, ma la discriminante rimane quella che ci ha fatto vedere Gennaro due slide fa, in quella slide eccezionale, nell'intento col quale si vuole spostare velocemente il carico. Nei nostri chi allena la forza dei giocatori di palacanestro secondo me deve avere sempre come primo approccio quello di far fare con qualsiasi carico il movimento alla massima velocità consentita da quel carico. Non so cosa dici la letteratura riguardo a questo? Assolutamente è quello che dici, quindi sicuramente l'importante è l'intenzione indipendentemente dal carico. E quello che tu hai visto su questo soggetto in realtà è abbastanza in linea con la letteratura, perché quando si parla di elemento con sovraccarichi, si è visto che tu nel singolo esercizio per ottenere un alto tasso di sviluppo della forza devi almeno usare il 40% del massimale, perché se tu utilizzi un carico troppo basso, sì lo stai muovendo molto velocemente ovviamente, ma dal punto di vista meccanico c'è poco carico, quindi rischi di avere poca forza, ok? Di avere poca forza, quindi quello va assolutamente in linea, assolutamente. Bene, quindi se vogliamo parlare di velocity based training, cosa che va molto di moda, ma è una cosa molto antica, perché io mi ricordo che già negli anni 80 usavo l'ergo power di Bosco quando mi allenavano, l'importante è proprio questo, perché sicuramente la velocità conta, ma conta se è la massima velocità esprimibile con quel carico e voglio sottolinearlo 20 volte. Io direi che ci andiamo a concludere, ok Gennaro, stiamo avanti, però ci tengo a fare un'osservazione, quindi riassumendo un po' tutto quello che ha detto Gennaro e del quale abbiamo parlato insieme, abbiamo parlato molto del discorso strutturale, della dimensione dei muscoli, dell'ipertrofia, della forza, delle tipologie di applicazione della forza, della lunghezza, di tutto quanto, e abbiamo parlato in parte della funzione, soprattutto appunto adesso legandoci alla velocità con la quale si esprime la forza. Quindi questo era l'argomento di oggi, il focus di oggi. Ci tengo a sottolineare, chi mi conosce un po' sa che sono molto legato a questi aspetti, quindi non abbiamo affrontato gli aspetti coordinativi, che ha affrontato molto bene prima Caterina, sui pattern di base, sulla triplificazione, sulla coordinazione specifica. Quindi se parliamo di cosa dobbiamo fare in questo momento, sicuramente l'aspetto strutturale fondamentale e molto importante, lo è altrettanto l'aspetto coordinativo e di come faccio gli esercizi, come smuovo dei carichi e quindi non vorrei che fosse passato che non è un aspetto importante. A riguardo faccio velocissimamente un accenno di programmazione, perché abbiamo messo lì tanti contenuti e volevo darvi dei contenitori veramente in maniera grossolana, ma che facessero capire dove ci troviamo. Quindi ho diviso il periodo in periodo attuale, in pre-season e in season. Periodo attuale perché non è un vero e proprio off-season, un off-season così lungo non l'abbiamo mai vissuto, quindi non potevo scrivere off-season. E quindi dal punto di vista strutturale mi piace lavorare sulla forza, chi ci è riuscito, chi l'ha fatto adesso avrà secondo me vantaggi qua e qua. E sicuramente la componente isometrica, la componente eccentrica, oltre a quella che chiamo basic force, la forza di base, diciamo la forza generale per non entrare troppo nel dettaglio, e sono componenti importanti, così come la funzione nelle sue componenti più basiche dei pattern e della coordinazione di piegarsi e di riaprirsi. In season, in pre-season, scusate, sicuramente ancora struttura. La parte isometrica magari la mettiamo precedentemente per tutto il discorso che ci ha fatto prima generale sull'Requated Bout Effect, che secondo me in questo momento viene molto importante, però andiamo su basic e su eccentrica in ottica di architettura e prevenzione dell'infortunio e iniziamo a ragionare sul tempo con il quale applichiamo questa forza. In season dovremo mantenere tutta la componente strutturale, ovviamente l'isometrica avrà questo tipo di accezione preliminare, l'eccentrica sarà fatta da un punto di vista strutturale, ma considerando che tipo di impatto meccanico ha, magari sarà un po' più ridotta nella quantità e per quanto riguarda la funzione andremo a svilupparla in tutti i modi, con tutti gli esercizi di coordinazione specifica anche fatti con sovraccarichi, andremo a lavorare sulla forza esplosiva, stiffness e tutto quanto. Noi dobbiamo in sintesi preparare una struttura che è stata ferma per tanto tempo, dobbiamo prendere le poche componenti positive che abbiamo usato, che sono venute fuori, stando fermi, quindi la rigenerazione e dobbiamo far sì che la nostra struttura sia pronta a fare qualcosa che poi sarà altamente specifico, perché noi dobbiamo riportare i soggetti a correre, saltare, cambiare di senso, cambiare di direzione. Faccio l'esempio che abbiamo fatto prima, la componente tendina dovrà adattarsi a fare esercizi e movimenti con velocità molto alte e tensioni altissime, ma per farlo dovrò passare da, ad esempio, l'isometria lenta e il carico perché mi prepara la struttura dal punto di vista della meccanotrasduzione e tutto quello che abbiamo detto. Quindi ancora di più in questo momento dobbiamo avere una visione generale del problema perché questo lungo stop ci ha portato a questo. Io vi voglio salutare, ringraziare, passando veloce questa slide che abbiamo deciso di mettere con Gennaro perché siamo molto vicini al concetto di pratica basata sull'evidenza e quindi c'è una esperienza e una parte pratica che fa delle domande alla parte scientifica e questo impallare domanda risposta è quello che ci serve per crescere e cercare le strategie migliori da adottare. Perché poi alla fine l'atleta, i suoi valori e l'approccio individualizzato al lavoro è quello che tutti quanti vogliamo ottenere come risultato finale. vi ringrazio molto, sono stato molto contento di essere qua, lascio la parola a Gennaro che se vuole dire qualcosa ringraziare individualmente e dai speriamo di vederci tutti quanti veramente sui campi con dei bilanciari in mano invece che dei bilanciari sul video la prossima volta. solo per ringraziarvi per dare la parola a Lorenzo vabbè vabbè